Si svelano e tornano finalmente a mostrarsi al pubblico in tutto il loro splendore le corsie sistine al complesso monumentale di Santo Spirito in Saxia, l'ospedale più antico d'Europa nel cuore di Roma. 1200 metri quadri di affreschi, il ciborio con i gigli farnese in foglia d'oro e la pala d'altare firmata da Carlo Maratta e soprattutto gli otto secoli di storia, accoglienza e bellezza. Un incredibile esempio di architettura civile e arte voluto nel 1475 da Papa Sisto IV. All'inaugurazione del restauro realizzato dall'Aslo Roma 1 grazie a un finanziamento della Regione Lazio c'era il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi il Governatore del Lazio Nicola Zingaretti, il Sindaco della Capitale Roberto Gualtieri e i Ministri della Salute e della Cultura. La corsia sistina racconta la sopraintendente speciale di Roma Daniela Porro era la corsia storica dell'ospedale voluto da Sisto IV della Rovere in occasione del Giubileo. Reclutando l'architetto Baccio Pontelli e lo scultore Andrea Bregno, il pontefice aveva infatti voluto ristrutturare tutto l'arcispedale. L'edificio era costituito da due imponenti sale che prenderanno il nome dei medici Lancisi e Baglivi, raccordate da un tiburio ottagonale sotto il quale svetta un elegante ciborio, probabilmente unica opera romana di Andrea Palladio, arricchito dalla pala d'altare dedicata a San Giobbe, eseguita da Carlo Maratta. Ma ci sono anche due maestosi portali, il più esterno del Bernini e quello interno detto del Paradiso Opera di Bregno. E poi la seicentesca ruota degli esposti dove venivano depositate i neonati, altrimenti tragicamente abbandonati sulle rive del Tevere. Insomma, come spiegato dalla sopraintendente, una sorta di cappella sistina degli ospedali storici, sia per l'importanza del committente, sia per la straordinaria bellezza dell'apparato decorativo. Con il restauro è stata inaugurata anche una mostra sulle fasi salienti della pandemia, con 48 fotografie delle principali agenzie. Il presidente Mattarella, ha raccontato il direttore generale della ASL Roma 1, Angelo Tanese, è rimasto affascinato dalla storia di questo luogo e ha firmato il Libera Fraternitatis, codice miniato del 1446, che veniva firmato da tutti coloro che entravano a far parte dell'Arci confraternita e diventavano benefattori dell'ospedale. Una tradizione che nei secoli lo ha trasformato in uno straordinario libro di autografi di papi, persone illustri e da oggi presidenti della Repubblica.